Ciao a tutti, ho ricevuto un commento, beh per la verità erano due, di un nostro amico che mi ha chiesto alcune cose, mi ha fatto vedere domande e mi ha chiesto se gentilmente poteva fare un video. Beh allora caro Donato, io il video lo sto facendo, però già ti dico che per alcune domande che mi hai fatto è quasi praticamente impossibile risponderti, ma andiamo con ordini. Allora la prima domanda che mi fa, ciao caro ti ho scoperto da poco, meno male, potresti fare un video che parla degli esempi sulla moneta, uno che arriva con l'euro deve fare il cambio dove? Allora andiamo con ordine come ho detto, per poter cambiare i soldi diciamo che a mio parere hai quattro alternative, anche se poi alla fine della fiera l'unica diciamo valida è solamente una. Allora la prima cosa che potresti fare è andare nella tua banca, nella tua banca italiana e appunto convertire i soldi da euro in reali. Però io ti dico la mia esperienza, il primo anno, meglio la prima volta che sono venuto in Brasile io ho tentato di fare questo, quindi sono andato nella mia banca, se ricordo bene era l'intesa San Paolo e appunto ho detto guardate devo andare in Brasile potete cambiarmi questi euro in reali, beh credimi non sapevano nemmeno cosa fossero i reali, cosa fosse il real brasiliano. Quindi finché si tratta di cambiare l'euro in dollari, in sterline, in franchi, in quello che vuoi, nessun problema. Quando però la moneta è quasi sconosciuta diciamo così, allora la mia banca non ha potuto fare questa conversione, non ne è riuscita in poche parole, forse era la mia banca che non valeva niente, quindi ti posso dire prova, vai nella tua banca, digli appunto che vuoi cambiare l'euro in reali, real brasiliano e vedi loro cosa ti dicono, però anche lì a me l'idea di andare in giro con tanti soldi in tasca a me non è mai piaciuta, ma lì devi decidere tu. Altra possibilità è che una volta che tu arrivi qua in Brasile, che arrivi all'aeroporto, in qualunque aeroporto brasiliano, troverai sempre dentro nell'aeroporto uno sportello per il cambio, quindi potrai andare lì e cambiare i soldi senza nessun problema. Ha il vantaggio di essere comodo, perché appunto arrivi all'aeroporto, non devi diventare scemo, andare in giro a cercare posti e già lì tutto quanto pronto, te li cambiano e sei a posto. Il problema qual è? Che di solito queste agenzie di cambio, chiamiamole così, che sono dentro l'aeroporto, hanno delle tasse maggiori, quindi in poche parole i tuoi euro varranno meno, non so se mi sono spiegato. Non quella grande cosa, non ti aspettare che magari andando in un'altra agenzia di cambio o in una banca brasiliana, lì ti regalano gli reais, no. Però effettivamente da quanto visto le tasse sono un attimino maggiori, quindi lì dovresti fare i tuoi conti. A mio parere questa soluzione è molto valida, più che altro per comodità, perché come ho detto lì, e quando vuoi cambiare pochi soldi, immaginiamo vuoi cambiare 100 euro in modo da tenere in tasca, mentre sei lì in Brasile un po' di spiccioli, mettiamolo in questo modo, un po' di soldini, magari per prendere un taxi, per prendere un caffè, per alcune cose. Già però se tu volessi cambiare tanti soldi, dipende per te che sono tanti, allora lì ci sarebbe da fare i conti per bene. Però è una possibilità che è meglio tenere in mente. Un'altra cosa che potresti fare è, ok, arrivi in Brasile, arrivere al loro porto, vai in città, in albergo dove vuoi, sicuramente in quella tua città ci sarà perlomeno un'agenzia di cambio. Questo perlomeno nelle città medio-grandi, poi se vai proprio in un paesino sperduto ovviamente sarà difficile, però per esempio qui a Sorocaba di agenzie di cambio ce ne sono parecchie, non le ho mai contate, però 4-5 di sicuro, quindi basta cercare su Google agenzie di cambio, o meglio casa di cambio e lì troverai tutte le agenzie e le case di cambio in quella determinata città. Questo avrebbe il vantaggio di avere dei tassi un pochino minori dell'agenzia di cambio che c'è dentro all'aeroporto. Quindi potrebbe essere interessante se tu magari sei in un'altra città, quindi non sei dentro all'aeroporto appena arrivi, quindi magari sei in viaggio, sei andato a Rio, poi hai voluto fare un giro a San Paolo, a San Paolo hai bisogno dei soldi, ok vai in un'agenzia di cambio, quindi un vantaggio potrebbe essere questo, altro vantaggio appunto come ti ho detto che hanno dei tassi un pochino migliori dell'agenzia di cambio che c'è dentro all'aeroporto. Poi un'ultima cosa che potresti fare è andare in una banca brasiliana, se tu dovesse andare, che ne so io, il Banco do Brasil, il Banco Itaú, il Banco Bradesco, il Santander, insomma in una qualunque banca brasiliana, teoricamente loro ti potrebbero cambiare i soldi, perché dico teoricamente? Perché da quanto ho letto, ho cercato di informarmi un attimino perché sono cose che io ho fatto sarà 20 anni fa, possono cambiare i soldi solamente per chi ha un conto corrente in quella banca, quindi se tu per ipotesi dovesse avere un conto corrente nel Banco do Brasil, allora ok vai lì e loro te li cambiano, se non ce l'hai è molto probabile che ti dicono no guarda mi dispiace non te li posso cambiare. Questo è quanto io ho letto, dopo ripeto l'unico modo è andare in una banca e chiedere informazioni a loro, magari se li mostri il passaporto non ci sono problemi, ti potrei anche dire se tu hai un amico o un parente o qualcuno di fiducia che ha un conto corrente in una banca brasiliana glielo dice a lui, oi ciccio cambiami questi 100 euro, 500 euro in modo che io non abbia problemi, in quel caso andrebbe tutto quanto bene, però ripeto il consiglio che ti posso dare se vuoi vai in banca chiedi se è possibile farlo, se ti dicono sì, bene, se ti dicono no, allora l'unica alternativa è andare in un'agenzia di cambio o come le chiamano qui casa di cambio. Però devi sempre fare i beni conti perché da qualunque parte che tu vada in un'agenzia, che tu vada in banca, che vada dove vuoi, sempre dovrai pagare delle tasse, quindi in poche parole cosa vuol dire? Inutile che tu vai per esempio su Google e vedi quanto vale l'euro oggi, immaginiamo che Google ti dica un euro vale 6 reais, faccio un esempio, nessuna banca, nessuna agenzia di cambio ti pagherà 6 reais per ogni euro, te la pagherà molto meno, questo vale per qualunque trattativa che tu dovrai fare. Io solo per avere un'idea, ieri sono entrato nel Banco Etàù, che mia moglie appunto ha un conto corrente nel Banco Etàù e lì appunto mostra che per esempio se tu volessi comprare degli euro, allora l'euro in quel caso varrebbe 6 reais e 10 centesimi, però se tu invece volessi vendere euro, quindi convertire euro in reais, un euro ti varrebbe 5 reais e 17 centesimi, quindi praticamente quasi un reais in meno, che a mia parere non è poco. Per quello ti dico, ok, tu fai i conti, vedi quello che è meglio fare, però sappi che ogni volta che tu cambierai euro in valuta locale, quindi in reais, prenderai molto meno dell'effettivo valore dell'euro, non so se ho reso l'idea. Ora però ti dirò il mio parere, il mio parere è che tutto sommato non serve, non vale la pena convertire i soldi da euro in reais, per quale motivo? Perché l'ho già detto mille volte, qui in Brasile puoi comprare tutto, ma proprio tutto con carta di credito e Bancomat e qui a differenza dell'Italia non fanno nessuna storia, ma proprio nessuna, quindi puoi comprare, che ne so io, un gelatino da due reais, faccio un'ipotesi, con carta di credito, tranquillo. Puoi andare al ristorante, puoi andare a noleggiare un'auto o usare la carta di credito, oppure addirittura il Bancomat, il Bancomat della tua banca, ovviamente se ricordo bene dovrai dire alla tua banca di abilitare il prelievo anche all'estero, però potrai usare anche il Bancomat se per ipotesi non hai la carta di credito. Per quello ti dico che tutto sommato convertire euro in reais una volta che sei qui in vacanza, a mio parere è inutile, quindi ok, come ti ho detto, arrivi l'aeroporto, scambia 50, 100 euro, poco, solamente per avere in tasca nel portafoglio qualche spicciolo per qualunque evenienza, ma convertire, cambiare i soldi, tanti soldi per vivere qua, per vivere intendo fare le ferie qua, per andare al ristorante, per andare in giro per andare al bar, a mio parere è letteralmente inutile. Se tu hai un Bancomat italiano o una carta di credito, vai tranquillo che proprio problemi non ce ne saranno. Poi per l'amor di Dio c'è gente che mi dice, ah no io la carta di credito non la uso perché ci sono le tasse da pagare? Ok, ma hai appena visto che anche se tu cambi soldi devi pagare le tasse, quindi non vedo quale sia il vantaggio. Oppure altre persone, ah no io non uso la carta di credito per una questione di privacy. Ciccio, se tu la pensi in questo modo ti dico già stai in Italia, non andare all'estero proprio perché è un ragionamento a mio parere letteralmente assurdo, però ripeto, le alternative per poter cambiare i soldi te l'ho detto sono queste quattro qua. Ti ho dato il mio parere, a mio parere non vale tanto la pena cambiarli o meno cambiano molto poco e dopo vedi tu quello che è meglio fare. Ok? Poi altra domanda che sempre questo mio amico qua Donato mi ha fatto è e magari fare un video su quanto costa una cena per noi che abbiamo l'euro. Beh allora qui diventa un po' difficile dirti quanto costa una cena perché dipende dove vai a mangiare, cosa mangi, quanto mangi. Cioè è ovvio che se tu vai per esempio da McDonald's paghi una cifra, se vai in pizzeria ne paghi un'altra, se vai in ciurrascaria ancora diverso eccetera eccetera. Quindi non si può come dire stabilire una cifra, dirti quanto spenderai. Io ti posso fare degli esempi, dopo sarai tu che dovrai fare i conti rivalutare. Quindi lasciamo perdere McDonald's che è proprio per me la più grande porcheria che esista. Però per esempio se tu dovessi andare in pizzeria, faccio un esempio, allora diciamo che quando vai in pizzeria è sempre due alternative. O ti prendi una pizza, punto, finito, oppure molte pizzerie, oserei dire quasi tutte, fanno quello che qui chiamano il rodizio. Rodizio vuol dire che tu paghi una cifra e il cameriere continua a passare con diverse pizze, dicendo appunto che pizza è, se tu la vuoi, se ti piace, ti dà una fetta e continui così finché non dici basta, non ce la faccio più, ok? È una bellissima cosa, ok? Però giusto per avere dei prezzi. Io ti parlo della mia città, Sorocaba, però penso che bene o male anche negli altri posti sia più o meno simile. Un rodizio in genere, proprio facciamo una media, in genere ti costa intorno ai 30 reais a persona, bevandi a parte, perché anche lì dipende, se ti bevi una birretta quanto la paghi? 5 reais, se ne bevi 3 o 4 o 5 paghi di più, se ti prendi una bottiglia di vino ancora di più, quindi capisci, però per mangiare questo benedetto rodizio, quindi mangiare finché non scoppi, 30 reais, che è a mio parere un controsenso, sa per quale motivo, perché se tu dovessi prendere una pizza sola, per te, anche se qui la pizza non è individuale, però immaginiamo che tu voglia prendere una pizza per te, la pizza da sola la paghi 40, 50, 60 reais, quindi se vai in pizzeria, consiglio d'amico, vai quando c'è il rodizio, che paghi di meno e mangi di più, però anche lì per darti un'idea, sappi che se tu dovessi ordinare una pizza, andare in pizzeria a prendere una pizza, come ti ho detto, 40, 50, 60 reais, addirittura a volte anche di più, dipende dalla pizzeria, dipende dal tipo di pizza, sempre bevandi a parte. Se tu dovessi andare in una ciurrascaria, quindi dove fanno carne alla griglia, buonissimo, allora lì la media è ovviamente più alta, la media a mio parere in una ciurrascaria buona è intorno ai 70 reais a persona. Anche lì di solito è quello che qui chiamano commi a vantaggi, cioè praticamente hai il buffet che puoi prendere tutto quello che vuoi, in più passa il cameriere ai tavoli che ti dà da carne un affetto o due e anche lì finché non dici basta, non ce la faccio più, loro continuano a passare, però ovviamente il prezzo, come ti ho detto, è più caro, la media è 70, dopo ne trovi alcune che costano un po' di meno, però calcola 70 reais una ciurrascaria, sempre bevandi a parte. Visto che abbiamo parlato del commi a vantaggi, altra cosa molto interessante, molto bella che c'è qui in Brasile è che molti ristoranti hanno il commi a vantaggi, cioè appunto che vai lì al ristorante, paghi una cifra fissa e mangi tutto quello che hanno, tutto quello che vuoi finché non ce la fai più. Anche lì è molto interessante, molto conveniente, anche qui di solito il prezzo è simile alla pizzeria, solo che non mangi la pizza, mangi carne, mangi verdura, insalata, tutto quello che vuoi, perché i prezzi siamo intorno, sì anche qua intorno, perlomeno qui nella mia città, un 30 reais a persona, bevandi a parte. Quindi come vedi, a parte come dire la ciurrascaria che ovviamente è cara, però per mangiare in un ristorante, in una pizzeria, di solito con 30 reais, mettiamoci una birra, mettiamoci due birre, rotondiamo, 50 reais, che a mio parere è tanto, mangi e bevi finché non ce la fai più, ok? Però siamo sempre lì, come ti ho detto all'inizio, dipende dove vai e cosa mangi, perché ok, io ti ho fatto l'esempio pizzeria, ciurrascaria e ristorante, ma dipende dal ristorante, ti faccio un esempio banalissimo, qui, beh, poco lontano da me, c'è un ristorante che più che altro è specializzato in pesci, molto bello, molto chic, tutto quello che vuoi, però solo per darti un'idea, un piatto di pesce o di gambe, di quello che vuoi, con un poco di riso, non sto dicendo balle, 200 reais, loro dicono che è per due persone, sarà, io non ci sono mai andato, però vedere dalla foto, diciamo che due persone che mangiano poco, ok, però che sia quello che vuoi, come ti ho detto, un piatto di pesce e un poco di riso, 200 reais, l'ho mangiato in due, sono 100 reais a testa, più, ripeto, le bevande, più, che ne so io, se prendi dopo il dolce, sono altri 50-60 reais, se prendi una bottiglia di vino, non voglio nemmeno immaginare quanto te la facciano pagare, quindi vedi, come puoi pagare 30 reais, come puoi pagare 300, per quello ti ho detto all'inizio che è difficile dirti quanto tu potresti spendere per una cena al ristorante, dipende, dipende dove vai, quanto mangi e cosa mangi, ok. L'ultima domanda che mi hai fatto, questa sinceramente, perdonami, ma è proprio, per meno per me, impossibile risponderti. Tu mi dici, invece per un italiano che va in vacanza, considerando che mi ospitano, ok, quindi non devi pagare l'hotel, per pranzi, cene e attività varie, che considerazioni hai? Bonato, come faccio a risponderti? Dipende dove vai, cosa farai? andrai? Andrai al bar tutti i giorni? Allora spenderai molto, andrai al ristorante sia pranzo che cena? Spenderai ancora di più, andrai in discoteca? Non ho idea, io non vado più in discoteca da 50 anni forse, non lo so, però capisci, è impossibile risponderti a questa domanda, perché dipende dalla tua vita sociale, da quello che farai. Se sei come me, risparmerai molti soldi, perché io non vado mai da nessuna parte, però se tu sei già, vedo dalla foto, più giovane di me, quindi vai al bar, vai a prendere una birra, vai a farti l'aperitivo, vai a cena, vai nei locali, vai di qua, vai di là, è ovvio che spendi tanto, però giuro, darti una cifra anche solo per avere un'idea, no, io sinceramente non ci riesco, non ho idea, sono sincero. Per l'amore di Dio, se qualcuno che sta vedendo questo video saprebbe in qualche modo aiutare il nostro amico Donato, dandogli un'idea di di questa domanda che mi ha fatto, di questa cosa, ben venga, quindi aiutate me e aiutate lui, però penso che sarà difficile per qualunque persona rispondere a una domanda del genere, ok? Quindi Donato e quindi anche voi, io il video l'ho fatto, ho cercato nel mio piccolo limite di risponderti, di darti un aiuto, di darti un'idea appunto su tutte le cose che mi hai chiesto. In qualche modo ci sono riuscito, fu alcune cose, come ti ho detto, per me è veramente impossibile risponderti, però io ho cercato di fare del mio meglio, ok? Quindi spero che a te, come alle altre persone che vedranno questo video, questo video sarà piaciuto, scusate se mi ripeto, e noi ci vedremo nel video prossimo, che forse sarà più o meno su questa linea, forse, non ho ancora deciso, ok? Quindi un abbraccio a tutti, ciao!